Carica l'assetto, non spinge X, aspetta con calma Stradegia, assetto, carica Stradegia Mi raccomando, metti in modo che scappa, tanto abbassa Cerca le spigne X sulla Stradegia anche senza segna Sì, 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 no, la faccio sempre Ah, perché sennò può essere che... Benzina? Benzina, io ho 1.4, mi pare Ma io l'altra sera ho corso più 1, sono andato alla fine Ma che ne so, io non l'ho provata mai la gara londera, una volta l'ho provata ma non mi ricordo quello che ho messo Ah 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 ah, fai un... 28.1 va... Per scaramazzia Esatto Assetto, fammelo ricontrollare 10, 8, 90, 55, 1, 6, 1, 5, 2, 7, 150, 23, 8, 23, 4, ok. Io direi che è partito. Bene? Che dici? Va bene, va bene. Cazzo, passate due minuti e basta. Dai, qui ci hanno i 30 secondi, vai. La bianca l'hai provata? No. No, non si fa un cazzo. Neanche se è un tamponamento, un giro uno, spacchi l'ala. Gialla subito. E ci arriva la fine? Speriamo. La power unit sembra a posto, quindi pensa soprattutto a scaldare gomme e freni. Serra l'ha aggavando. Eh, segnava rosso. Io lo vedevo rosso. Oggi non è prevista pioggia. Oggi non è prevista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bocca al lupo Sperlone. Bocca al lupo te, crevi. Tieni d'occhio i semafori. La sequenza di partenza comincerà non appena tutti saranno sulla griglia. Tieniti pronto. Io ne ho perdito prima. Bocca al lupo. 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 Bagliera verde C'è stato un incidente con detriti spazi Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo Quindi niente safety car per adesso Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF Capito, d'accordo Box, box anche io E Alex Sama gli va di culo che c'è la gialla E quindi lui va in prima posizione Se non primo, poco indietro Fai attenzione alle gomme adesso Devi finire la gara con il treno attuale Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spaccato tutto. Grazie a tutti. Non dare gas. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se l'attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. C'è stato un incidente con detriti sparsi. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo, quindi niente safety car per adesso. Ok, rallenta, rallenta, delta negativo vuol dire che stai andando troppo veloce. Qu'è che si è schiantato? Dio nico. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Porco Dio. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 la proposta. non sorpassare fino al momento giusto. resta in posizione fino alle bandiere verdi. nucce che, che ralliti? Ok, via libera. Ok, via libera. Ok, via libera. Ok, via libera. Eh ma no, che palle. Porco diaz, che coglioni. Ho aperto il contrato della macchina Trane. E' il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Allora vado a mettere la gomma nuova a questo punto. Tanto pit stop in più, pit stop in più. Una rossa nuova ho montato qui. Come faccio a avere una rossa nuova? Eh, perché è morinziato. Ah, è vero. E' 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 vero. Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. E' vero. La pista è libera. Bandiera verde. Ok, distanza dal compagno di scuderia. 1,9 secondi. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.